guarda eh, quanto c'è una guarda Dio Padra guarda e si, guarda questo gli piace tanto eh guarda eh, guarda quanto, quanto, quanto gli piace Dio Padra, guarda le secca, le secca come uno spi le secca come uno spira spira, guarda quanto gli piace guarda quanto gli piace a Dio Padra quanto magna di gran carriera magna di gran carriera Dio Padra guarda quanto gli piace, vedi che c'è che c'è pure ehm, com'è che si chiama quella lì morbida la gelatina la gelatina quattro per stavolta gli basta dai guarda basta va guarda, ma te sbiascita mmm a posto mangia Clio Padra, mangia quanto è secca Clio Padra mangia Clio Padra, mangia ciao la Zarena ciao la Zarena ciao la Zarena eh, qua non la va eh, dopo devo cambiare lunedì perchè la trubiana è chiusa la trubiana è chiusa ciao la Zarena quando non vi c'è lì ciao la Zarena dai ti e il va e le ma ma Grazie. Ora le mani a Cleopatra, Cleopatra, quanto mani a Cleopatra? Come? Capri, dove porta Mauro? È la casa del Vedante. Ah beh, guarda. Mi porterei io una fissa armonica, no? Sì, ma quella costa i soldi. E tu e io, almeno, faccio pubblicità. Ora le mani a Cleopatra. È la quinta, a Cleopatra. È la quinta, a Cleopatra. È la quinta, a Cleopatra. Ora le mani a Cleopatra. Allora... E' qua, vieni, vieni. Ciao, ciao, abbiamo! Ciao, ciao, cominciai! Io da che f***a non posso non vienire, non vienire... Ma ti chiamava... Dì da... Amerigo? Bocaciccia? Eh, Bocaciccia. 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 Quanto umano, quanto umano a Cleopatra. Quanto gli piace a Cleopatra. Non è solo il padre, non è solo il padre, non è solo il padre. Si viene ancora una mia canale. No, come un laggio in una canale. Ok. N fiction. Centro amore. Un aiutambi tranqui che nelierno spl strategy. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.